Credo che il Branded Content and Entertainment Festival sia un evento che nasce fondamentale per l'industria e finalmente il contenuto e il brand, quindi l'intrattenimento trovano una casa e trovo che sia un'occasione interessantissima, stiamo vedendo delle case history straordinarie su tutti i settori e trovo sia molto calzante e molto efficace la divisione nelle categorie che ci sono. Il futuro del Branded Entertainment e del Branded Content lo vedo sempre più legato all'arte e alla sperimentazione tra comunicazione e arti, dalla figurativa, dalla pittorica, dalla scultura, dalla musica. Credo che i prossimi anni ci riserveranno delle interessantissime cose.